L'altro giorno in live è arrivato un altro paccone, al cui interno ci sono delle cose che non avrei pensato di ottenere così presto. Anzi, è stato un vero colpo di fortuna ottenerli. Quindi non perdiamoci oltre e benvenuti in questa nuova puntata di Mad e Unboxing Unita Assieme. Il video probabilmente rientrerà nella categoria Mad, per ovvie ragioni. Però questo in realtà è un Mad Unboxing, un Unboxing folle. Ma a parte questo, ah hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mad. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Per quanto credo di non aver spoilerato troppo nel titolo, questo pacco e il suo contenuto sono stati veramente un colpo di fortuna. Partiamo dall'inizio. Non voglio subito dirvi che cosa c'è all'interno, però sappiate questo. Non molto tempo fa vi ho parlato di questa cosa in particolare. E subito ho detto che probabilmente avrei trovato dello spazio per lui una volta che l'avrei trovato. Bene, un venditore romano per 70 euro mi ha venduto tutto quanto assieme. È stato anche fin troppo gentile e onesto. Perché fossi stato io, l'avrei anche pagato di più. Ma non svalutiamo la mia fortuna. In questo pacco giallo, al suo interno, nascosto da una busta, quelle per i surgelati del Penny Market, troviamo questo. Diciamoci la verità. Per 70 euro, tutta la collezione di My Hero Academia non è un regalo. È quasi un furto. In senso buono, ovviamente, per me. Quindi questa scatola non ci serve più. Veramente, per 70 euro, dal numero 1 fino al 24, che è l'ultimo uscito ad ora, un prezzo d'onore per questa persona. Io non so perché lui l'abbia venduto a 70 euro tutti quanti, compreso lo spin-off vigilante. Eccolo qua. Il box con non uno, ma con quattro volumi. Le mie teorie sono veramente poche per cui lui l'abbia potuto vendere. O non gli piaceva più il manga, o qualcuno l'ha obbligato a venderli. Per quel prezzo mi pare un po' assurdo, però. Perché se facessimo un rapido calcolo, ogni numero costa 4,30 euro. Moltiplicandolo per 20, sono 86 euro. Solo i primi 20 numeri. Aggiungiamo altri 17,20 euro per gli ultimi quattro numeri. Più 15 euro del box di vigilante. Insomma, la somma è un po' alta. Ma ovviamente non sono io che devo discutere i prezzi dei venditori. Per me va oltre che bene questo. Per me questo è un vero salvataggio. Perché sarò sincero, al momento sono al quarto volume. E più vado avanti con la storia, più mi sta piacendo. Il che è quasi assurdo. Perché per tutta la mia vita, i supereroi, o i superpoteri in generale, non mi sono mai piaciuti così tanto da farmi dire mi appassiono a un supereroe in particolare. L'ho già detto e lo ripeto. Superman, Batman, tutto quello che gira attorno ai supereroi. Non mi ha mai appassionato. Li vedevo sempre troppo. Nel senso, erano sempre loro i migliori. Erano sempre quelli, oh, soprattutto. Dio è sceso in terra ed ha preso la forma di un supereroe. E questa cosa invece non mi è mai piaciuta. Ma questi ragazzi invece, che sono ancora acerbi, non sanno come usare bene il loro potere. Non sanno qual è la loro potenzialità. Massima, stanno ancora crescendo, stanno ancora capendo come funziona il mondo degli eroi. Perché questo, per una volta, non è il contrario. Ovvero uno contro il mondo, ma è il mondo contro uno. Ovvero il personaggio principale che non aveva un superpotere, ma che arriva ad averlo. E questo, l'ho già detto, è un incipit che a me è piaciuto molto rispetto al sono il singolo che ha un superpotere e devo proteggere il mondo. No, il mondo può benissimo proteggersi da solo, ma sei tu che devi imparare a crescere con il potere che hai appena ricevuto. Magari questo è anche un topic un po' vecchiotto di cui discutere, visto che siamo molto più avanti rispetto a dove mi trovo adesso. Siamo avanti di ben 20 numeri. Ma nonostante questo, io voglio parlarne. Perché per come è sempre stato strutturato il mondo dei supereroi, io sono sempre stato distaccato da questo. Ma per una volta in cui i supereroi non sono uno per tutti, ma tutti per uno, la storia per me può solo che migliorare. Io non penso che arriverò ad abbandonare un manga del genere quando, fin dall'inizio, fino ancora prima di leggerlo e guardarlo, mi aveva già interessato. Avete fatto caso al gioco di parole uno per tutti e tutti per uno? Traducetelo in inglese. I personaggi, anche quelli più fastidiosi, anche quelli che ancora non sono stati presentati, i personaggi che si sono visti poco ancora, mi interessano, mi piace scoprire il potere di tutti, mi piace scoprire come funziona, quali sono i loro limiti, qual è il loro potere massimo, il loro utilizzo massimo. È una cosa incredibile. Arrivato a questo punto, ancora, non ho nulla da dire incontro a una storia del genere e a personaggi del genere. Certo, per esempio parliamo di Bakugo, che è un dito nel culo, ma nella storia un personaggio del genere serve perché fa vedere come una persona orgogliosa va a venire contro un muro che è la realtà. E questa cosa, per quanto Bakugo sia fastidioso, è una cosa interessante. Mentre Midori, per esempio, contro questo muro della realtà c'è sempre stato fin dall'inizio, ma l'ha spaccato a testate fino a passare dall'altra parte, ovvero nella parte dei supereroi. Guarda, mi sistemo i capelli come sgarbi adesso. Ad ora, nella classe 1A, non c'è nessuno che non mi piaccia. Anche Mineta, che per esempio è il più discriminato di tutta quanta la classe, alla fine, se ci pensi bene, ha superato l'esame d'ammissione. Cioè, Midori, senza l'aiuto di All Might, non sarebbe passato se non avesse avuto il potere. Non ce l'avrebbe fatta. Mineta, ad altro canto, se ci pensi, è entrato comunque nella U.A. ce l'ha fatta rispetto a tutti gli altri candidati, quindi non è una persona da sottovalutare. Certo, magari è la comic relief di sto cazzo di manga. Per carità, serve una comic relief. Serve sempre qualcuno, quello un po' pervertito, che faccia ridere la gente. Ma se ci pensi, Mineta ha passato il cacchio d'esame. Ha bloccato i robot con le sue palline appiccicose e ha fatto punti. Certo, magari non avrà fatto il record mondiale, ma è riuscito a passare. Vogliamo parlare di altri personaggi? Aoyama, mi piace tantissimo. Il suo potere del laser ci sta. Peccato che ad ora, quello che ti fa capire è che non può usarlo per molto, visto che poi starebbe male. Minashido, bellissimo personaggio, molto simpatico. Tokoyami, il potere di usare l'ombra, fantastico. Vogliamo parlare dei professori? Aizawa, caratterizzato benissimo. Midnight, bello. Mi piace che un personaggio adulto in un contesto di ragazzini sia così al di fuori del contesto. Mi piace. Altra cosa che mi sta piacendo molto del manga sono gli intermezzi tra un capitolo e l'altro, dove lo scrittore mette in retroscena i background di vari personaggi. Questa cosa ti fa capire molto, uno, l'impegno che c'è stato dietro nella creazione di tutti quanti, ma soprattutto ti fa capire che lui vuole comunicarti tutto il suo amore per ogni singolo personaggio. Mi piace, mi sta piacendo, non vedo l'ora di poter continuare a leggere e magari in un breve futuro poterne parlare ancora. Questo episodio di Mad, oltre a essere stato anche un simil unboxing, era per farvi capire che io ho sempre avuto un pregiudizio su una determinata categoria, ovvero quella dei supereroi. Certo, comunque i miei gusti rimangono tali, i supereroi non sono la mia categoria per esempio di film preferita, ma quando una storia è scritta bene, la cosa fa solo che piacere. Faccio un esempio, Doctor Strange, che è comunque un film di supereroi, a me è piaciuto, perché la storia è presentata bene, il personaggio Strange è un ottimo personaggio, tutta la storia che gli gira attorno mi è piaciuta. Il personaggio che hanno scelto, Camberbatch in questo caso, perfetto per il ruolo. Stessa cosa, il personaggio principale della storia, Midoriya, che non è il solito supereroe, che è in questo caso All Might, ovvero il più figo di tutti, quello che si deve nascondere perché tutti lo cercano, tutti lo amano. No, in questo caso no, perché lui è il suo erede, anche se nessuno ancora lo sa, ovviamente. Mi piace che, questa volta, il personaggio principale sia una nullità, uno che è sempre stato al margine, uno che nessuno si è mai cagato e che ora, piano piano, sta risalendo, sta venendo scoperto, a tutti inizia a piacere. Questa cosa è bella perché, in questo caso, il supereroe supremo, sono il primo in classifica, è la spalla, tra virgolette, la spalla ovviamente, del protagonista, è il suo maestro. Poi devo essere sincero, il manga, a differenza dell'anime, racchiude veramente tutto in pochissime pagine e una cosa che adoro dei manga è che mettono sempre quel qualcosa di più rispetto all'anime, come in questo caso mettono delle scenette extra con i vari personaggi, i vari intermezzi, per esempio questo. Io, ad esempio, in questo intermezzo ho scoperto una cosa che adesso non vi voglio dire per ovviamente non rovinarvi la cosa, ma che effettivamente mi stavo chiedendo. Mi piace il fatto che lo scrittore abbia risposto a una domanda che io mi stavo ponendo. Quindi veramente, ragazzi, non vedo l'ora di arrivare all'ultimo numero o probabilmente quando ci arriverò magari esce il 25, ma soprattutto sono curioso anche dello spin-off. Probabilmente, probabilmente, quando lo leggerò vi farò sapere le mie impressioni. Quindi, signori, voi avete comprato qualche manga nuovo di recente, nuovo tra virgolette in questo caso visto che il My Hero Academia è in giro da un bel po', nello specifico è da febbraio del 2016, sono indietro di 4 anni. Aver trovato questi manga così poco più che un colpo di fortuna io lo chiamo un salvataggio eroico. Quindi, vi ringrazio a tutti per avermi seguito come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, qui sotto tra l'altro trovate anche il link per vedermi in live. Ci vediamo questa sera alle 9 con qualche altro gioco. Grazie a tutti e al prossimo episodio. Ciao! Ciao!